Via, eccoci, dopo partita di Olympic Cogoleto con Andrea Mastrogiovanni, gara a Gagliarda da entrambe le parti, un avversario indubbiamente scaffato, non facile, comunque un risultato ancora una volta positivo per questa squadra che è nata questa stagione, quindi Andrea come l'hai vista questa gara? Allora inizio dicendo che come hai detto tu è un anno zero, quindi è il primo anno che giochiamo tutti insieme, il mister devo dire che ha lavorato tanto queste settimane qua, stiamo ancora trovando l'amalgama, però in Coppa abbiamo ottenuto due buoni risultati con due buonissime squadre, Oggi non era facile perché comunque loro sono una squadra che è persa molto alta, corrono tanto e hanno buona individualità, però noi abbiamo retto, ne vediamo da lavori di carico parecchio pesanti, quindi eravamo un po' imballati ma nella difficoltà ci siamo compattati e abbiamo portato a casa un buon risultato Molto bene e ringraziamo Andrea Mastra Giovanni per Settimana Sport